buhayori c'è le paste il film in anteprima assoluta martedì 19 novembre alle ore 22 il film evento completamente gratuito ok valerio dammi la ricetta per il l'ha prodotto è un segreto non la posso dare a nessuno ma come è che non si apre managgia ma come le fanno queste macchine si aspetta tutti managgia figlio dell'olga figlio dell'olga si è di mangio baracca e troiaio che su dicono we are the world we are the city we are the world we are the city io ero pure di due anni volessimo fuori tu vai a piazza dell'imperatore uno arto e non vede un cavolo perché essendo arto non vede nulla e poi è un siamo in cammino ai ospiti sempre e non c'è campo né aratro per noi né pane cresce e non sappiamo cosa a dio ci servi gioca con noi argilla nella mano ok valerio mi dici in dove posso trovare funghi io non ho inteso in dove ha fatto funghi e di se tu vai alla coppia e tu pena che più poco l'ansia di essere ci incalza forma su forma riempiamo senza prego ma nessuna ci riviene gioia patria o pena sempre vada e un è per cattiveria ma se volevo ragionare andai barri ha fiso i panieri per mettere come si è per mettere funghi i cestelli il cestino eh ma io così io li metto in tasca bucaioli c'è le paste bucaioli le son fresche bucaioli c'è le paste le maiale alle finestre bucaioli ce ne tanti ma le paste le son finite abbiamo un anno e si ha e si ha fatta a desinare